E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è VRC3 E' amici di Youtube, eccoci qui. Allora abbiamo fatto la creazione del personaggio, il mio secondo pilota, il mio amico Giuliano Sama. Ho dovuto mettere perché non mi faceva mettere gli accenti. Iniziamo, abbiamo fatto anche una carellata per vedere un attimino le impostazioni di gioco, tutto quanto, il garage, quello lì. Iniziamo questa prima gara qui in area iberica contro Carlos Hernandez, campione rally dell'area iberica della Spagna, dell'Espana. E niente, questo qui tutto quanto, buona visione, ci vediamo poi alla conclusione del video, ci sentiamo dopo. Ok, buona visione. La polvere rossa sulla carrozzeria delle auto è l'inconfondibile firma del Portogallo. Qui i piloti si devono misurare con i terreni tipicamente ghiaiosi dell'Algard. Curve cieche e strettoie impongono una guida attenta e pulita. Via. Sinistra 3. Attenzione, sotto, poi destra 3. Sinistra 6, in destra 6, poi sinistra 2, stringe. Destra 5, stai a destra, sinistra 4, in destra 3, chiude. Poi sinistra 3, in destra 4, stai al centro. Destra 5, lunga e tornante sinistra, barriera all'interno. 40, tornante destra. Sinistra 4, in destra 5, lunga. Destra 3, non tagliare, in sinistra 3, e destra 3, apri. Sinistra 5, attraverso acqua, poi sinistra 5, chiude, muro all'esterno. Stai in mezzo, poi destra 6, sinistra 5, e destra 3. Sinistra 6, in destra 6, poi sinistra 3, in destra 3. sinistra 4, chiude, sinistra 4, chiude, e destra 5. Sinistra 2, lunga, e destra 2, apri. 60, stai al centro, attraverso acqua. Destra 5, in sinistra 2, poi destra 3. sinistra 5, in destra 5, e tornante sinistra, barriera all'esterno. 40, sinistra 5, in destra 6, stai al centro, su ponte. Destra 5, in sinistra 4, e tornante destra. Sinistra 5, chiude, in destra 4. 40, sinistra 3. Tornante destra. Sinistra 4, lunga. Destra 4, e tornante sinistra, muro all'esterno. Destra 4, e destra 3. Tornante sinistra, muro all'esterno, e 40. Tornante destra, non tagliare. Sinistra 4, chiude, su dosso, e destra 2, burrone all'esterno. 40, attenzione, dosso, in sinistra 4. Poi sinistra 3, in destra 4. Chiude, e tornante sinistra. Tornante destra, barriera all'esterno. 40, di destra 5, in destra 4. 60, apri. Destra 3, stringe, in sinistra 2. Destra 4, e tornante sinistra. Poi tornante destra, rocce all'interno. Destra 4. Poi sinistra 5, in destra 5. Sinistra 5, in destra 3. Tornante sinistra. 40, traguardo. 69, tar man1200. Lola ули Nochisz up! 69, tar man1200. 70, tar man1300. 69, tar man1300. Nira 1, Hahn1300. deviation. 71, tar man1300. Wait, we can't interfere with these barbaricWS. Grazie a tutti. 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 Ogni volta che selezioni una tua auto potrai personalizzarne i vinili, la vernice e addirittura installare nuove componenti sbloccate per migliorarla. Grazie a tutti. 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 li toglierei io, li andrei a mettere, vediamo un po', eh, così è molto più cattiva, vai vai, ok, l'elaborazione, logicamente la elaboriamo anche questa qui, allora vediamo il motore, kit 2, aeronomatica, kit 2, cambio, kit 2, ispensioni, kit 2, freni, kit 2, se non mi sbaglio, sì, gli altri sono ancora bloccati, ok, io direi per il momento di fermarci qui con questo video che forse unirò, quelli che ho registrato fino adesso, poi vediamo un attimino in fase di editing, quando saranno lunghi i video, diamo un'occhiata alle altre competizioni, allora, questo degli anni 80 è ancora bloccato, io punto ai 500 stelle a prendere il reno 5 GT Turbo, o il Peugeot 205, c'è anche la Lancia Delta S4, anni 90 la Delta HF integrale del 1991, che io punto a quella, dato che ieri sera mi sono visto, ieri sera, quanto puoi uscire a questo video, se non poi mi sono visto proprio la storia della Lancia contro l'Audi, quello lì, anni 2000, c'è la Subaru Impreza, Ford Focus, la Citroen C4, VRC, queste già siamo nel campionato VRC ufficiale, qui a 150 sblocchiamo la Mitsubishi Lancer e la Subaru Impreza 280, in classe 2, eh, la Punto Abarth, l'S2000 e la Ford Fiesta S2000, sono indeciso tra la 207 e l'Abbarth, sinceramente, forse punterò sull'Abbarth, queste sono qua, qui la Twingo R2 e la Ford Fiesta ST da sbloccare ancora, qui abbiamo la Renault Crio R3 che me la prendo appena ci arrivo, me la prendo e poi me la elaboro, come dico io, dato che io ho la Clio come macchina, quello lì, ok amici di Youtube, io direi per il momento ci fermiamo qui, poi continuiamo sempre qui in area iberica, in Espania, si continua con le rally e vedo che c'è anche il Portogallo, oltre la Spagna, insomma, bel divertimento ci sarà davvero, davvero davvero davvero, un arrivederci, scrivete nei commenti quello che più vi piace, insomma dei cambi, le macchine, le livree, tutto quanto, che colori volete vedere, quello la, ok, ciao a tutti. Amici di Youtube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link Paypal, nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account, grazie.